Con la chiusura dell'ultimo dei 50 reattori nucleari in funzione, da sabato 5 maggio 2012 il Giappone torna a essere un paese denuclearizzato per la prima volta dal 1970, quando a Tokai entrò in funzione il primo reattore nipponico in grado di produrre 1000 megawatt di energia elettrica. Il fabbisogno energetico del Giappone è coperto per oltre un terzo dal nucleare. Per questo la chiusura di tutte le centrali, seguita alla crisi di Fukushima, l'impianto distrutto dallo tsunami nel 2011, fa temere una crisi energetica per quest'estate quando ci sarà il picco dei consumi legati al caldo, perplessità che tuttavia non fermano gli attivisti. Alcuni politici e qualche esperto di energia nucleare, spiega Tatsuya Yoshoda, uno dei leader dell'ONG Peace Boat, dirà che senza energia atomica la nostra vita non può esistere. Ma adesso, in Giappone, questo non è per niente vero. La nostra vita può andare avanti, anche senza le centrali atomiche. In Giappone siamo sempre stati particolarmente legati all'energia atomica, spiega quest'uomo vittima del bombardamento di Nagasaki. Il nostro governo ci ha sempre detto che era sicura, ma ci ha traditi. Dopo la guerra, aggiunge questa donna che fu tra i sopravvissuti di Hiroshima, anche le vittime dei bombardamenti atomici furono a favore del nucleare perché bisognava riavviare l'economia. Dopo Fukushima, però, ci siamo improvvisamente ricordati di quanto può essere distruttiva. Ufficialmente, l'ultimo impianto atomico giapponese a Tomari sull'isola di Hokkaido chiuderà per manutenzione per 70 giorni. In realtà, il suo futuro è incerto e non si sa se e quando il governo nipponico darà l'assenso alla sua riattivazione.